La peculiarità intanto si inquadra in un rapporto di collaborazione dell'Ateneo, anche in particolare di questo Dipartimento con le istituzioni, in questo caso con l'Arma dei Carabinieri. Questo evento continua, replica, anzi amplia un evento che già si era realizzato due anni fa, volto proprio a mettere al centro come focus quella che è la funzione primaria importante dell'Arma dei Carabinieri a presidio e a tutela del territorio, anche perché questo si incrocia con delle tematiche di studio dei nostri corsi, in particolare abbiamo un corso di compliance e prevenzione del clima che ha come oggetto materie che oggi saranno affrontate dagli interventi degli operatori che si occupano di questa tutela, tutela della salute, tutela del lavoro, tutela del patrimonio culturale e quindi evidentemente c'è un intercio virtuoso e noi cerchiamo di portare avanti con questa collaborazione che non deve essere episodica, che non ha solo un valore simbolico e di informazione, che è più importante, ma anche un valore di formazione dei giovani, dei nostri studenti verso uno scenario che è quello in cui loro devono operare nell'ambito dell'affermazione della legalità. sono le attività che nelle parti dell'Arma volano nell'ambito dei comparti di specialità che sono attribuiti in via esclusiva all'Arma dei Carabinieri del 2016 e quindi riguardano la salute, la sanità, l'igiene, la situazione alimentare, la sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare, il lavoro, la situazione sociale e riguarda anche la parte della tutela, il patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale.